Giù in lungo muro, giù in lungo muro, giù in lungo muro. Il famoso abbattimento del lungo muro è qui. Per poter abbattere definitivamente e finalmente tutti gli immobili abusivi, per poter restituire la spiaggia ai cittadini, riequilibrare le spiagge libere con invece le spiagge sulle quali vogliamo mantenere gli edifici storici. C'è chi si oppone, c'è chi è solo chiacchiere nel lungo muro e noi invece siamo qui per portare avanti un'azione di legalità che è iniziata varie anni fa, noi l'abbiamo seguita con costanza, credo che sia la cosa giusta da fare. Oggi siamo qui per seguire il consiglio, grazie. Il lungo muro verrà abbattito. Se riusciamo ad approvare questa delibera, sì, oggi sì, non svelare le carte, anzi forse l'abbiamo già visto qualche tempo fa. Chi è per il mantenimento dello status quo, chi è per il mantenimento dell'illegalità e chi invece vuole perseguire la legalità e andare avanti su questa strada. Grazie. 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 Grazie.